Buonasera dal Bodeguero, siamo qua tutti riuniti per annunciare un concerto strepitoso, domani infatti avremo Dominic Mancuso e la sua band, tutti questi signori da Toronto, Canada, ma di provenienze miste e le sue origini di Dominic, italiane, siciliane, si manifestano anche nella sua musica, dici Dominic che cosa farai domani? Una contaminazione, una cosa molto bastarda, la realtà è che siamo un misto di culture in Toronto, questa è la mia realtà, sono qui in tour per fare promozione su questi nuovi dischi e siamo onorati di essere qui con voi, con Cien De Leon su Percussion di San Antonio Cuba, con Paco Luviano su basso di Jacopo Comerico, Jerry Caringi di Richmond Hill via Aciociarie, sembra un rapper new yorkese ma lo fa apposta, non è new yorkese e non è rapper? No, no, non ci sono, sono Ciociaro, Ciociaro da Toronto, un pianista, fisarmonicista Ciociaro e poi abbiamo mi sembra anche un chitarrista qua giù, dici due parole, say something about the gig, about Italy, about whatever. Vive l'Italia! Grazie, grazie, grazie.